Figlia di Carrie Fisher, è nota per aver interpretato il ruolo di Canel numero 3 nella serie televisiva Scream Queens, per esser comparsa nella saga cinematografica Star Wars nel ruolo del tenente con Nix, e per essere protagonista di American Horror Story dalla settima stagione Ha studiato Teologia e Psicologia all'Università di New York, laureandosi nel 2014 È figlia dell'attrice Carrie Fisher e dell'agente Brianne Lord, nipote dell'attrice Debbie Reynolds, e del cantante Edie Fisher Da parte di madre è russo-ebrea, scozzese-irlandese ed inglese È nipote degli attori Todd Fisher, Joely Fisher e Tricia Leigh Fisher I suoi padrini di battesimo, sono Meryl Streep e Bruce Vagner Nelle versioni in italiano dei suoi film, Billy Lord è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane